La tua prima stagione oltre a Roma, visto che sei giovanissimo, cosa ti aspetti in quest'anno? Mi aspetto di crescere molto sia come giocatore che come persona, di maturarmi molto e di aiutare al più possibile questa squadra nel raggiungimento di obiettivi. Dove fare più ruoli? Quali preferisci tra le due posizioni in campo? Posso fare più ruoli? Non ho una preferenza dove il mister ha intenzione di mettermi, mi adatto e gioco. Tu hai visto già qualche immagine del tifo di Ascoli, molto caloroso, ti piace questo tipo di atmosfera? Sì, mi piace e cercherò di ripagarla al meglio. Certamente non si faranno acquisti per riempire caselle, ma saranno essere acquisti che sono confacenti a quello che è il progetto dell'allenatore e della società. Non a caso un giovane come Lorenzo che è innessato in questo progetto non può dare soltanto che spinta l'infa vitale a quello che è il progetto stesso messo in pignetti. La cosa importante è un mix tra giovani e giocatori più esperti? Assolutamente sì, i giovani sono importanti per squadre e per piazze importanti come quelle di Ascoli, sono importanti perché fanno crescere l'entusiasmo e portano anche loro quell'entusiasmo che è necessario in questa società e in questo panorama. Grazie a tutti!